I Chierichetti sono una ricchezza per la diocesi, l'arcivescovo lo dice spesso, anche in visita pastorale, li vuole incontrare sempre, regala loro la fiaccolina, questo movimento com'è? Allora il movimento è senz'altro un'esperienza viva della Chiesa Ambrosiana, storica, e che permette di mettere in relazione tanti ragazzi, soprattutto nell'età dell'elementare, delle medie, con l'attenzione particolare di pregare con la liturgia. Ecco, la liturgia non diventa solamente qualcosa da fare, ma diventa l'occasione appunto per avere un rapporto significativo con Dio. Sono la speranza la Chiesa di domani, sono i figli di quella Chiesa che poi li vedrà crescere, una buona educazione fin da piccoli alla fede, poi aiuta magari in quelli più grandi. Come anche il direttore della FOM suggeriva nei giorni scorsi, i giovani sono proprio il futuro, ma la bellezza dell'essere giovani è che c'è ancora la dinamica dello stupore. Quindi ogni cosa è una domanda, ogni situazione è una novità, ogni occasione diventa motivo di conoscenza. E proprio per questo la capacità nostra è proprio quella di suggerire a questi ragazzi la necessità di farsi delle grandi domande, così possiamo accompagnarli alla crescita anche e all'incontro con l'esperienza cristiana che è tipica nostra.